Questa mattina ho avuto nel mio negozio una mia cliente, una mia paziente anzi, con un problema abbastanza grave agli arti inferiori. Come si nota dal calco gessato che gli è stato fatto, un piede in equino varo supinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che appoggia solo la punta e lateralmente il suo carico. Quindi ho dovuto fare un calco gessato per realizzare il calco per poi poter costruirci la calzatura e supplantare su misura la calzatura idonea. Ogni persona ha il suo piede. Poi questa forma viene ricoperta per metà, la metà esatta, e viene disegnato il modello che il cliente vuole. Con questo modello ricaviamo i pezzi. Il modello disegnato, questi pezzi vengono aggiuntati in giunteria, viene messo sotto piede in cuoio e che viene montata. Andremo a mettere un tacchetto di prova, che sarà la differenza tra i metà tarsi e il tacco di altezza, in modo che la cliente avrà l'idea esatta di come viene la scarta finita. Questa è l'arte del suo misura. Rispetto al passato, una calzatura su misura, che in passato era pesante e robusta, adesso si riescono a fare delle tomaie flessibili, leggere e al giorno d'oggi contemporanee belle. Grazie. 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 Grazie.